Pronti? E cominciamo! Pronti? E vai Edoardo? E vai Andrea? E vai Martino? E vai Amos? E vai Aurora? E vai Yara? Un, due, tre, stop! E adesso vai Lorenzo quando vuoi! Un, due, tre, stop! E adesso i metalofoni! Un, due, tre, stop! Un, due, e andiamo tutti! Un, due, tre, stop! Un, due, tre, stop! Un, due, tre, stop! Grazie, grazie bambini e bambine! E adesso veniamo alla nostra opera letteraria che sta lì sul palco e io chiamerò Antonella perché abbiamo deciso di non usare un supporto, un leggio, tantomeno una sedia perché... Perché? Perché ci sono io! Perché ce l'è! Però, però, però c'è una sorpresa! Invece solo di cantare la sentiremo anche recitare e Rebecca adesso non l'ha mai fatto, è una novità assoluta! E vieni a questo microfono qui, in piedi! Riuscite a leggere il testo così? Se mi metto così? Sì! Un pochino più, più vicino a lei! Non serve, io lo so a memoria! No, no, lascia, lascia, lascia! E anche io lo so a memoria! Non ti devi lasciare! Non ti devi lasciare! Così! Riesci a leggere? Sì! Ah, vai! Voce alta, pronuncia chiara! Un delfino sogna un delfino, la roccia tocca il sole, ed io tocco la luna, il riccio di mare canta, la pinetta dorme con le onde, ed io mangio le nuvole. Le isole che parlano, le isole che cantano, le isole che suonano, le isole che sognano. L'hanno scritta loro e abbiamo imparato che cosa è la strofa, che cosa è il ritornello. Riuscite a leggere tutti? Vedete il testo? Sì! No? Allora... E adesso ci alziamo in piedi? Va bene? Voi, voi, io rimango così. Prendete i casù in mano, già, che ci serviranno, però non li suonate ancora, va bene? La 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 la... Un pochino più di voce... La 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 la... La 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 la... La la la... La la la... Un delfino... Un delfino sogna un delfino, la roccia tocca il sole, ed io tocco la luna, ed io tocco la luna. La bocca chiusa! Mmmmm... Più forte! Mmmmm... 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 Mmmm... Le isole! Le isole che parlano... Parlano le isole che cantano, le isole che suonano, le isole che sognano. Il riccio di mare, forte, il riccio di mare canta, con le parole, di nuovo, con le parole senza casù. Il riccio di mare canta, la pinetta dorme con le onde, ed io mangio le nuvole, ed io mangio le nuvole. Le isole che parlano, le isole che cantano, le isole che suonano, le isole che sognano. E in giro. L'ultimo giro. Ritorniamo ai posti. Ritorniamo ai posti. Ritorniamo ai posti. Ritorniamo ai posti. E... Amo, sono ora, vi dite, vi dite, fate parte della fila. E uno, due, tre, andiamo giù. Io ringrazio ancora una volta l'invito che mi è stato fatto da Alessandra per partecipare anche quest'anno alle isole che parlano ai bambini. Ringrazio, ovviamente, anche Fratelli Angeli, tutti e loro tre, che mantengono questo festival in piedi. E anche io mi sento di ringraziare il comune di Palau, perché veramente 27 anni di un festival così bello, tutti sarebbero orgogliosi. Grazie ancora. Applausi. Applausi. Grazie. Applausi. Vai, con calma, con calma. I casi e poi li portate a casa. I casi sono morti. Grazie. I casi, voi li portate a casa. I casi sono morti. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti.